Grazie Presidente. Ricordo che oltretutto è in lavorazione un regolamento che va in questa direzione, non dovesse comunque entrare in conflitto con quelle che sono le norme di più alto livello, quindi il regolamento regionale e la legge nazionale. Questo per evitare che l'amministrazione si trovasse di fronte a eventuali ricorsi e quindi alla necessità di dover rispondere in altre sedi con costi maggiori. Gli aumenti che sono stati indicati ci risultano compatibili con quella che è la legislazione di più alto livello per cui l'emendamento è stato conformato alle altre fonti normative e quindi dimensionato in questo modo. Grazie.